Buonasera e bentrovati ai nostri telespettatori, benvenuti in questo spazio dove abbiamo ospite il sindaco di Santa Marinella, l'avvocato nomevole Pietro Di Dei. Buonasera Di Dei. Buonasera. L'ho presentata come sindaco di Santa Marinella, ma lei è abitante di Civitavecchia, è stato tra l'altro diverse volte sindaco di questa città, direi di iniziare con un bilancio, un primo bilancio dell'amministrazione tedesco. Beh, ovviamente preciso, non spetta a me fare i bilanci anche se io appartengo a un partito politico che sta all'opposizione e che, voglio dire, avendo, essendo il mio nome anche legato non solo al fatto che sono stato tre volte sindaco, ma anche che la maggior parte delle opere pubbliche, direi quasi tutti, sono legate al mio nome, è chiaro che non mi, diciamo, la partecipazione politica in questa città è come la droga, nel senso che ci vivo e costantemente vedo e osservo l'attività, non solo l'amministrazione comunale, ma la qualità dei servizi offerti in città. Un occhio sempre a Civitavecchia. C'ho tutti e due gli occhi, perché c'è vivo, quindi gli occhi sono a Civitavecchia. Premetto però che non voglio essere né un oppositore, perché formalmente io sono un oppositore perché appartengo al PD e diciamo anche sostanzialmente ritengo che non ho partecipato e non ho votato per questa amministrazione, rendo opportuno che il mio ruolo è all'opposizione. Siccome però sono un'istituzione, sono sindaco di Santa Marinella, a me piace dialogare con i comuni vicini, un dialogo con Tarquinia, che non è facile dialogare con il sindaco Tarquinia, un dialogo ovviamente con Civitavecchia, con Toro Fallumiere, con Cervetri e il dialogo va al fatto tra comuni e tra istituzioni, perché oggi è importante essere insieme, un comune da solo in chiave ormai di campanilismo non porta da nessuna parte. Noi abbiamo vinto il premio Città della Cultura del Lazio perché con Cervetri e Santa Maria Toro Fallumiere siamo stati uniti e quindi è ovvio che io voglio che il sindaco tedesco non vada a casa, mi auguro che risolve i suoi problemi, mi auguro che possa governare perché insieme col comune di Civitavecchia possiamo fare tante cose e questo mi pare che è chiaro, quindi mi dispiacerebbe anche se qualcuno nella sua maggioranza mettesse la firma per mandarla a casa. A me è successo uguale, mi è molto dispiaciuto e ritengo che chi fa la sua battaglia e vince e tedesco ha fatto la sua battaglia e l'ha vinta deve governare perché lui ha avuto il mandato dal popolo per governare e quindi tutto ciò che dovesse servire per mandarla a casa dovrebbe un atto di mascazzonaggine che probabilmente non è neanche giusto perché chi ha vinto deve governare, come io vinsi avrei dovuto governare poi purtroppo così non è stato. Detto questa è una premessa che ritenevo doverosa, diciamo però che nonostante che a me piacerebbe, come credo che dovrebbe piacere a tutti, che questo governo esprimesse insieme ad altri comuni vicini una politica territoriale che va dallo sviluppo economico alle infrastrutture, servizi e così via. Però vedo che obiettivamente ci sono delle difficoltà, sarà la questione di rodaggio e probabilmente ambientazione, ci sarà che sono tante persone, forse politiche diverse, però mi pare che lì tanti galli accantassi fanno maggiorno. Allora io non do consigli o meno, però ritengo di interpretare anche le esigenze della mia popolazione, quella che governo, perché faccio un esempio, ci sono all'Enel, oltre 6 milioni di lire congelate lì da anni, perché quegli scienziati della giunta Cossolino, che ripeto, continuano a dire che sono stati il peggio del peggio, verrà ricordato quel sito e quella giunta come la peggiore amministrazione dopo guerra d'oggi, guai, meno male che stanno calando, perché se per caso ancora c'erano questi seduti potrebbero pure sperare di rivincere, quindi mai, Civecchi ancora, se ricorderà per sempre, ma detto questo, e io dico questi 6 milioni d'oltre, quasi 7, che sono lì presso l'Enel, e tembano essere sbloccati, perché in quei 6 milioni e mezzo ci sono la maggior parte che sono fondi riservati a Civecchi, ma poi c'è una parte che sono riservati a Comune Santa Maria, di Tolfo a Lumiere e Tarquinia. Allora, qui non è che io mi arrabbio perché sono problemi di Civecchi, ma sono problemi nel mio Comune, perché io che sono un Comune di se Stato e tale l'ho ereditato dal centro-destra, e quei soldi noi li vogliamo, perché ci servono proprio in questo momento la tutela della salute, l'ambiente, sono cose essenziali, ma perché tenere questi soldi nelle casse dell'Enel? E' la domanda, che cosa si doveva fare? Ci sono due esempi, primo, è stato realizzato dall'Istituto Dipartimento Epidemiologico di Roma della Regione Lazio, insieme all'Osservatorio Ambientale, due studi che confluivano insieme, che hanno fatto un unico progetto che era quello del registro dei tumori, di Civecchi da Vecchi, bravo. Siamo che la Regione Lazio sta aspettando ancora l'Enel che è il Comune di Civecchi da Vecchi, mandi una lettera, una lettera che abbiamo già predisposto noi peraltro, gli abbiamo detto Civecchi, cercate di mandare questa lettera perché in questa lettera c'è scritto Caro Emel, siccome noi vogliamo rientrare dentro l'Osservatorio Ambientale e sappiamo che è stato fatto dai Comuni, quindi dai Comuni, lo studio, è stato fatto dai Comuni lo studio per l'Osservatorio Ambientale, cioè per l'Osservatorio Ambientale, per il registro dei tumori, che poi era fatto dall'Osservatorio Ambientale, se voi sblocate questo finanziamento mi pare di 500 mila euro, 400 mila euro, praticamente parte finalmente il registro dei tumori, parte finalmente il registro dei tumori. Quindi basta poco, siamo arrivati. Ma una lettera basta, allora io questa lettera ce l'ha a Magliani e dico nome e cognome perché gli ho scritto anche una lettera francamente, adesso credo che ci siamo un po' stancati, allora c'è una lettera che loro devono scrivere, uscimo dalla liquidazione, l'Osservatorio esce dalla liquidazione perché noi chiediamo all'Enel di sbloccare questi 500 mila euro, 450 quanti sono, per finanziare il registro dei tumori, basta una lettera, la domanda è, caro Manuel che gli voglio anche bene a sto ragazzo, ma perché sta lettera la scrivi? Che ce vuole scrivere sta lettera? Perché se scrive questa lettera, se esce dalla liquidazione, l'Enel riceve questa lettera del Comune e sblocca parte di quei soldi che sono già nostri, sono nostri, quindi ci dà quello che ci spetta, che ripeto quegli scienziati di prima hanno tenuto bloccati per molti anni, detto questo e lo ripeto a Magliani, ma vuoi scrivere sta lettera? Punto. La seconda cosa, sempre inerente a questo, e questo già è grave perché ripartirebbe il consorzio, riparte l'Osservatorio, che ripeto, lo studio sul registro dei tumori è parte della regione Lazio, cioè l'ha fatto la regione Lazio, quindi se la regione Lazio, l'Ufficio Epidemiologico della regione Lazio e l'Osservatorio Ambientale hanno fatto questo tutto insieme per attivare il registro dei tumori, se basta una lettera uno si domanda ma perché non la scrive questa lettera? E se lo domandiamo tutti. È mistero. E aspettiamo stare. Due, il famoso consorzio, lo abbiamo detto, loro l'hanno scritto nel programma elettorale, se tu vai a vedere il programma elettorale dell'amministrazione centrodestra, si è scritto che loro rientreranno a far parte del consorzio e quindi la gestione dell'Osservatorio Ambientale. Perché è importante? Perché oggi abbiamo visto che molti centrodestra sono chiuse, la qualità dell'aria non c'è più, c'è la LARPA che ovviamente prende 500 mila euro all'anno da quel fondo lì, senza fare, non dico niente, ma non fare quasi niente, ma al di là di questo che poi a noi interessa poco, chi lo gestisce e lo gestisce saranno problemi suoi. Ma quello che vogliamo, rientriamo in questo consorzio. Il consorzio gestirà nuovamente, sblocchiamo i finanziamenti e queste 6 milioni di finanziamento serviranno a chi? A Ciliovecchia prima di tutto. Poi serviranno a Santa Maria, a Tolfo, a Lumina e a Tarquinia perché ognuno che non c'è ha le proprie esigenze. Io ho problemi di tutela ambientale, ho problemi di fogna, ho problemi di salubrità dell'aria, ho problemi anche di scarichi a mare. Abbiamo problemi seri, noi abbiamo 23 km di spiagge e su 23 km di sblocchiamo i problemi ambientali, dice no, scarica a mare, i fossi e così via, bonifiche. Allora dico perché abbiamo questi soldi e non dobbiamo utilizzare e fa ingrassare l'Enele perché poi di fatto è vero che l'Enele 6 milioni non so niente, però ma perché sta nelle tasche dell'Enele, nelle casse dell'Enele invece di ballare nelle tasche dei cittadini? E questo è importante. Allora, io lo ripeto, sono già tre volte che da questi emittenti dico la stessa cosa, ma sono tre volte che mi ha risposto nessuno. Allora, io non vi direi Magliani a venire qui, ma senza polemica perché ripeto, io voglio bene a sto ragazzo, e però pure lui, come si dice, deve arsare il sedere, deve muovere perché io capisco che devono fare le mediazioni, devono concordare, ma qui non c'è da concordare niente perché hanno tutti sottoscritto il programma elettorale, il programma c'è scritto che rientrava nell'osservatorio ambientale, la delibera ce l'hanno perché ce l'hanno perché gliel'ha predisposta insieme agli uffici l'osservatorio ambientale, quindi adottassero sta delibera perché adottata sta delibera bloccava i finanziamenti. A che? Domanda. Ma perché non fate sta delibera? Visto che l'avete scritto, che siete d'accordo, l'avete scritto nel vostro programma. La delibera è pronta, nel programma c'è, portatela in Consiglio Comunale. Probabilmente che lo potrà chiedere di persona domani perché avete un incontro, tra l'altro, con i sindaci del comprensorio. Ma già so 30 volte che io gli diamo domani, io gliel'ho rieterò per l'ennesima volta, ma mi dice sì, siamo quasi pronti, ma vediamo dovemo ritoccare a qualche punto, ma cosa se fosse la pietà di Michelangelo, insomma, poi gli dice ma che c'è da ritoccare? La delibera eccola lì, ma ritoccate la per ora, ma io anche a Giulio Diorio l'ho detto, io faccio nome e cognome, Giulio Diorio, l'ingegnere Lotto, dico ma che c'è qua Giulio a fare sta cosa? Eh non so, però tu dico bene, le dico bene che? Che? Che dico bene? C'è una delibera, la vedi, la se te sta bene bene, se non ne fa un'altra, ma comunque falla. Ho nominato l'incontro di domani perché c'è un altro tema, ho parlato di ambiente molto importante che è quello dei rifiuti, ne avete parlato in diversi incontri che già si sono svolti anche nel recente passato, a che punto siamo sotto quell'aspetto là? Si dota di un impianto che possa lavorare i rifiuti del nostro territorio in sostanza? Ma anche lì, parliamoci molto chiari e credo che all'amministrazione comunale di Civecchi il problema sia chiaro e abbiamo anche concordato l'indirizzo e la linea, abbiamo detto anziché tollerare che Roma ci porti i rifiuti a Civecchi e ci riempia la nostra discarica e quando la fece io ci sarebbe dovuto abbassare almeno per 20 anni, è chiaro che i rifiuti di Roma si è riempita subito e quindi tra qualche tempo non avremo manco più i rifiuti per Roma, meno male perché questi li portano a Civecchi e noi li portiamo a Videro. Allora Valeriane, un assessore sicuramente illuminato che è quello che si occupa dei rifiuti soli e urbani a Regione Lazio, ha detto scusate se avete terreni pubblici e ce ne abbiamo a Iosa qui vicino, se avete terreni pubblici individuate un sito in uno dei comuni tra Monte Romano, Canale, Manziano, Bracciano, Tolf, Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, individuate un sito possibilmente pubblico, io lo finanzio e ce lo finanzia, una volta che finanzia questo impianto di selezione o smaltimento del rifiuto solido urbano della frazione secca, si chiama frazione secca, praticamente voi risparmiate perché non essendoci più la speculazione del privato, parliamoci del guadagno del privato perché il privato investe e guadagna, non è che viene a fare la carità, siccome in questo caso non ci sarebbe necessità del guadagno del privato perché è finanziamento regionale, è chiaro che a questo punto il costo di conferimenti di selezione materiale sarebbe molto più basso e se il costo è più basso chi guadagna, guadagnano i cittadini che colatari non pagherebbero più questo prezzo alto, quindi lavoriamo per far abbassare l'immondizia, quindi dilatare tutti i cittadini e già sarebbe un fatto positivo, ci facciamo un impianto per colto nostro, scegliamo un terreno pubblico perché c'è e i comuni si mettono d'accordo e scelgono il sito, io capisco che il comune a cui tocca il sito dice ma proprio a me deve toccare, però ci sono dei siti che voglio dire in provincia di Verbo, in provincia di Civitavecchia, in provincia di Roma, a Otolfo, a Lumiere, comunque ci sono dei siti che possono essere utili, abbiamo detto concertiamo con la regione la idoneità del sito, una volta che l'abbiamo individuato di comune accordo la regione Lazio comincia a fare questo centro di trattamento, OTMBio di selezione, quello non ci sono problemi perché se risolva è un altro problema, perché oggi noi tutti conferiamo a Viterbo, a me tra qualche giorno se non li pago, a Ecologia Viterbo, mi chiudono i cancelli, se mi chiudono i cancelli, io con la monnezza gli ho detto che la butto fuori il cancello perché non c'è dubbio, però noi andiamo a pagare un mucchio di soldi, io pago, io pago, il comune di Santa Maria della Palma ha un mucchio di soldi per conferimento, è quello che molti di noi paghiamo 1 milione e 300 mila euro all'anno, è quello che il comune dice ecchia paghi molto di più, ma allora dico, se noi abbiamo questa possibilità di farcelo per conto nostro sul terreno pubblico fidanziato dalla regione, ma quali sono i problemi? Questa non la prendo con il comune, la prendo con tutti, però dobbiamo essere più veloci. Quali sono i passaggi? I passaggi sono, io credo che domani mattina se ci saranno tutti, mettiamoci a studiare qual è il sito, individuamone 3, poi… Ci sono possibilità già? Sì, ma c'era quella di Monte Romano, c'era quello di Poteva Essere Vetralla, oppure c'era quello Trattor Fallumiere, un sito possiamo trovarlo, si parlava dello spizzicatore, voglio dire, ci sono delle aree, è chiaro che capisco che il comune che c'ha l'area se da una parte ti dice ma io non voglio i fumi, i miasmi, però dall'altra un comune che ospita 60 marine l'avesse avuto voglio dire un terreno vasto, ma noi abbiamo tanto terreno perché ce l'abbiamo sul mare e quindi è chiaro che una città turista come la nostra non gli faccio una discarica addosso perché noi abbiamo mare, aurelia, ferrovia e autostrada, tutti in parallelo e non la metti, la metti, ma se io avessi avuto tanto terreno guadagna un mucchio di soldi a tonnellata, si risolvono i problemi di quel comune, però ripeto, un centro di trattamento moderno che non brucia niente, non brucia niente, scongiurerebbe l'inceneritore su cui torniamo, io credo che sarebbe comunque una soluzione equilibrata, da una parte c'è la vicino casa, dall'altra parte però il tuo comune guadagna tanta tonnellata e quindi arricchisce il tuo comune e guadagna i cittadini, perché il cittadino non pagherebbe più la tari, tanto per intendere, però questa è una discussione che dobbiamo fare serenamente, mi auguro domani mattina o mi auguro nella prossima volta, però benedetti Dio, anche qui cerchiamo di fare le cose concrete, perché poi a quell'osservatorio ambientale, il consorzio, abbiamo detto che gli conferiamo altri poteri, quali sono i poteri che gli conferiamo? Quello del consorzio per lo sviluppo economico, quello di andare a Miami adesso, noi dovremmo andare a Miami, ci va solo Cerveti, ci va solo Santa Marinella, Tarquinia so che ha fatto una riunione, mi pare proprio oggi a cui io non sono andato, ma credo che giustamente non è andato manco il tedesco e credo che giustamente non sia andato nel Torfallumiere, abbiamo un problema grosso, ma questa è la discarica, abbiamo un problema del consorzio, questo fa una riunione per andare a Miami, ma diciamola nella stessa sede dove si può fare, allora domani mattina mi auguro che partecipino tutti e allora dobbiamo affrontare il problema del centro per la raccolta rifiuti soliti urbani, affronteremo anche il problema di fare un pacchetto unico da vendere a Miami per il turismo che va da Tarquinia a Cerveti, sono patrimonio mondiale dell'umanità, questo significherebbe che andiamo a vendere il pacchetto dell'Etrulia, Cerveti ha vinto la gara insieme a noi per città della cultura, perché eravamo uniti, perché vendevamo l'Etrulia e mi dispiace che non sia aggregata civile vecchia a questo, però adesso Ernesto ha detto che lui ci sta a questo progetto e tant'è che adesso Cerveti che presenterà la sua candidatura per capitale della cultura italiana, io ho detto Alessio Pascucci, il sindaco, se ti presenti da solo, fa la fine di due anni fa, quando ti sei presentato da solo a città della cultura del Lazio, hai perso, ti sei presentato oggi insieme a noi, hai vinto, allora se vogliamo che vinca mettiamo dentro Civiechia, che Civiechia è importante, Civiechia è il primo portocrucistico il Mediterraneo, c'è una storia, era un porto romano, la storia di Civiechia è una storia vera, allora mettiamo dentro anche il lab di Civiechia e quindi avremo Civiechia, Santa Marilella, i Monti Adolfa e Cerveti, poi se c'è un fiumicino ancora meglio, abbiamo il polo dell'Etrulia meridionale, ma non ce lo dobbiamo inventare, c'è l'Etrulia, la terra degli Etruschi e quindi chi si candida a capitale della cultura italiana? L'Etrulia, finalmente non si candida più un paese, ma si candida una terra, che era la terra degli Etruschi, questo è importante, adesso con Mirko Mecossi che mi ha telefonato questa sera, che ci vedremo sabato, stiamo mettendo insieme la pista ciclabile, perché ci sono 10 milioni della regione Lazio per la valorizzazione del territorio e noi dentro mettiamo una pista ciclabile che va dalla forte Michelangelo al castello di Santa Severa, anche questo è un progetto che si fa insieme, perché prendiamo 10 punti, se lo facciamo insieme, anziché concorrere da soli, non servono, ci mettiamo insieme e quindi stiamo facendo con Cicciccicchi un progetto insieme per questa pista ciclabile che va dalla forte Michelangelo al castello di Santa Severa, però insieme, ripeto, dobbiamo fare anche a questo punto che cosa? Un progetto vero di sviluppo economico, dobbiamo fare un masterplan, e il masterplan qual è? Ci abbiamo il problema della tecnica dei Monti della Tolfa che può portare uno sviluppo enorme, abbiamo il problema delle infrastrutture, oggi, che può diventare un'opera strategica la civile vecchia a Orte, cioè quando siamo insieme, che ci mettiamo insieme Civile vecchia, Santa Maria della Tolfa, Lumiere, Cervetri, Ladispoli, se siamo insieme siamo una forza e anche quindi su questi progetti nuovi che ci stanno chiedendo, perché ci stanno chiedendo di fa' adesso ci sta intorno un gruppo di cinesi, ma adesso lasciamo i perdi cinesi, però vogliono fare la Futuristic City, Futuristic City vogliono fare una città del futuro che ci ha bisogno di 200 ettari di terreno per fare questa città del futuro vicino Roma, è una grande richiesta che noi stiamo valutando serenamente, però volevano venire questi cinesi, ho detto adesso finiti i vostri problemi con il coronavirus e poi discutiamo, però voglio dire ci sono grandi progetti che stanno anche attorno a Civile vecchia che stanno a Santa Maria, abbiamo queste grandi aree pubbliche che sono le terre dell'Arzia, abbiamo le terre del Piussi tu Santo Spiro, quindi abbiamo di che dire e allora mettiamoci insieme, c'è centrodestra, c'è centrosinistra, ci sono civici, ma ormai le elezioni ci sono state, quindi fino alle prossime elezioni dell'altro comune dobbiamo governare con chi ha vinto le elezioni e quindi noi vogliamo governare, però io un po' da città e un po' da sindaco dico come non mi meraviglierei se qualcuno mi tira le orecchie su qualche cosa che non faccio, ma va bene, siamo in aperta democrazia, ognuno può dire quello che gli pare, però cerchiamo pure di farle le cose, come sulla questione voglio dire non solo della, diciamo così, la piscicoltura, un altro problema. Il tema di elettricoltura, lei continua a ribadire la sua idea per scongiurare anche questa possibilità per Civica Vecchia? Ma anche qui vedi, io contro i movimenti che protestano, molto spesso hanno protestato, non ha ragione, ma questa volta però la loro protesta che la considero giusta, credo che sia indirizzata sul canale sbagliato, come quella degli usi civici, continuano a prendersi tra la quale regione e poi la regione non c'entrava niente. A oggi è una cosa molto semplice, se voi andate a Napoli, area di Napoli, quindi io dico area di Napoli, dove è stata fatta un'area marina protetta, lì c'erano persino le gabbie a mare per i tonni, quindi i tonni è roba grande, istituita all'area protetta, area di Napoli, le gabbie le hanno tolte perché è incompatibile con area marina protetta. Allora, anziché fare tutte queste battaglie ricorsi a atta contro ricorsi a atta, è uno solo, il Comune di Civica Vecchia deve scrivere una lettera al Ministero dell'Ambiente che è l'unico Ministero competente che può costituire un'area marina protetta, perché quella per l'Oasi la costituisce il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Ambiente costituisce l'area marina protetta, perché? Perché gli studi ci sono già e sono proprio nel Ministero dell'Ambiente, perché il Ministero dell'Ambiente quando fece la via, cioè valutazione di impatto ambientale, la fece in occasione della trasformazione della centrale a carbone e un'altra via, sempre il Ministero dell'Ambiente, l'ha fatta in occasione dell'ampliamento della centrale, del porto. Bisogna rinfrescargli questi documenti. Non si tratta di andare lì e dice mi date le due via, cazzi, prendete le due via che avete già fatto, ce l'avete, c'è lo studio pure sul grancetto, sul picciolino, sulla cozza, c'è lo studio su tutto, quindi c'è uno studio davanti alla frasca, perfetto, prendete quella roba e fate con una settimana la istituzione, la istituzione, perché basta un decreto, un decreto del Ministero e quindi del Ministro che istituisce un'area protetta. Ma è difficile? Ma a Napoli devono andare a vedere come... Io sono andato ieri stesso alla Regione Lazio, assessorato dell'Ambiente, via del Tintoretto, tanto per intenderci, e siamo andati a vedere come si fa la cosa. La cosa è semplice, basta che l'istituzione comune dica vogliamo in quest'area la istituzione di un'area marina protetta, di fronte alla frasca, che per l'altro è già un monumento naturale, è un monumento naturale, la via c'è, praticamente non manca niente, basta una richiesta di istituire in area marina protetta, ma perché non la fanno? Allora c'è qualcuno che sospetta, non io, ma c'è qualcuno che sospetta, ma allora sono a Gazzini, allora voglio dire, fanno finta del secondo, ma poi in effetti sono favorevoli, perché non si capisce per quale motivo, siccome nell'area marina protetta non sono compatibili le gambe per l'allevamento, ripeto, l'esperienza c'è già Napoli, non devono inventarsi niente, Napoli hanno fatto togliere le gabbie dei tonni, che è la cosa molto più grossa, a questo punto io credo che probabilmente il comune otterrebbe ciò che stanno tentando di ottenere questi gruppi ambientalisti, ma pure loro, anziché fare tutto questo casino, giusto peraltro, però possono andare dal comune e gli dice, sta sentì, perché non chiedete l'istituzione di un'area marina protetta? Perché quelli potrebbero dire, già dicono, ma c'è un diritto acquisito, no? Perché lì addirittura le hanno messe le gabbie, e lì addirittura a Napoli le hanno messe le gabbie, gliel'hanno fatte togliere, e quindi diciamo che questo discorso del diritto acquisito non esiste, addirittura manco ce stanno, quindi le autorizzazioni non hanno più efficace, e quindi sono nulle in quanto diventano incompatibili con la presenza di un'area marina protetta, e questo è il problema. Tra l'altro sulla zona della Frasca ci sono anche delle cifre e dei soldi in sospeso che possono essere utilizzati sull'area, no? Lui l'ha sottolineato anche l'altra volta. Brava, sei un bravo giornalista, per esempio. L'aveva detto lei, non sono bravo, l'ha sottolineato lei l'altra volta. Mi ha rinfrescato la memoria perché dopo una certa età la memoria si perde. Vi ricordate voi quando fanno l'ampliamento del porto? La via determinò un onere a carico dell'autorità portuale per la realizzazione di 10 milioni di opere pubbliche, che erano i bagni, i parcheggi, i ripascimenti, perché lì non dimentichiamo che ci sono le peschieri, c'è tutta un'area protetta che è quella già a monte, che la motorità portuale avrebbe dovuto spendere tutti questi soldi che erano cosiddette opere compensative, opere ambientali compensative, cioè io ti faccio fare l'ampliamento del porto a condizione che tu fai queste opere compensative sotto il profilo ambientale. Quali erano queste opere? Basta andare a vedere il progetto, c'è. Perché quelli scienziati 5 Stelle non gli hanno fatto mai fare? Non lo so, forse stanno aspettando i due euro a passeggero, erano a passeggero, stanno presi in giro per cinque anni, poi sono stati lì come broccoli, proprio con broccoli, io dico broccoli. Adesso però non fa mai fine i stessi broccoli di questi, lì ci sono i soldi che l'autorità portuale deve tirare fuori perché c'è un obbligo via, obbligo via, valutazione in parte ambientale, che deve fare una bonifica di quel territorio nel rispetto dell'ambiente, la valorizzazione mi pare che c'è anche un progetto di Elsa Evangelista, c'è la valorizzazione, l'architetto Elsa Evangelista aveva fatto un progetto in cui si dovevano spendere questi soldi, desti soldi quanti sono stati spesi non lo so, probabilmente niente, ma allora diciamo per quale motivo l'autorità portuale, visto che è un obbligo imposto dal Ministero dell'Ambiente, una sede di valutazione via, perché non tira paura questi soldi per fare una bonifica e una valorizzazione di quel sito, mettendo in evidenza le presenze archeologiche, mettendo in evidenza i parcheggi, i bagni, era previsto i bagni pubblici e quindi sarebbe un tutt'uno, perché hai un monumento naturale sulla cosa, un ripascimento della frasca, perché la frasca verrebbe rivitalizzata, oggi alla frasca ho visto che stanno a tagliare gli alberi verdi, c'è gente che ormai va lì e taglia e poi è bene dell'arsiale, stanno a tagliare, distruggono il bosco, allora rifareste voglio dire un bosco fatto bene, viene ripulito, salvaguardato, messo in fuoco, a mare ci si farebbe, a mare, sulla spiaggia ci si fanno i bagni pubblici, sulla spiaggia, dietro, ripristino di tutto ciò che sono le presenze archeologiche, se con la valutazione di impatto ambientale che ci sono, ripeto, il Ministero dell'Ambiente istituisce un'area marina protetta, avremo uno dei posti migliori, dicevi, perché abbiamo il verde, l'archeologia, la spiaggia, i servizi pubblici per piagge libere, ma perché pure questa roba qui non si fa? Io sarò pure un visionario, ma io mi attengo alle carte, mi attengo a ciò che c'è scritto, vorrei che qualcuno venisse qui a smentirmi, di no guarda non c'è scritto niente, non si è inventato, e allora andiamo lì, ma dico, le carte ce le hanno loro, basta che prendo e credo via, basta che vedano quello che doveva dare il porto e non ha dato, basta che quello che si fa come valutazione ambientale sta lì, gli atti sono conseguenti, dopodiché io credo che non ci sono scuse, ci voglio che gli amministratori bravi, svegli, intelligenti e attaccati soprattutto alla difesa dell'ambiente e proprio del territorio, perché lì se ci verranno le gabbi, io so che questi giorni mi stanno scrivendo tutti i colori, quelli che lavorano lì sopra all'impianto di ticoltore, poi veniva a mangiare a casa tua, poi me l'hanno detto di tutti i colori, ma scusate, se lì ci buttano tonnellate e tonnellate di fosfato e ci butteranno quintali e quintali di antibiotici, ma lì il bagno chi ce lo fa più? L'unico posto dove si può fare il bagno e ci hai chiesto quello, gli eleviamo pure questi, ci hai chiesto il domande, io posso essere contento di fare la Santa Marinella, ma a me francamente, io dico, è un'opera da scellerati, distruggere quella spiaggia, che è l'unica spiaggia bella peraltro, la spiaggia della Frasca, è una delle più belle spiagge, bellissima, con le presenze archeologiche, con quelle secche, con quegli scogli, voglio dire, peraltro se si spendono quei soldi per migliorarla sulla spiaggia, voglio dire, abbiamo fatto tombola, e la domanda è sempre quella, ma perché non si fa? Il professor Marcelli aveva sottolineato proprio nell'incontro che c'è stato qualche giorno fa, appunto, che un'eventuale collocazione di un impianto lì brucerebbe proprio la flora e la fauna presenti di uno dei posti naturali più belli rimasti a Civitavecchia. Siamo giunti quasi al termine della nostra chiacchierata, direi concludere con il tema del momento, ovvero con il coronavirus, perché lei da sindaco di Santa Marinella deve gestire anche questa emergenza, come stanno facendo tutti i comuni d'Italia, i comuni del nostro territorio, quelli della ASL Roma 4, di cui lei fa parte come sindaco, com'è la situazione? Diciamo intanto che il sindaco è la massima autorità sanitaria locale, quindi ha potere di ordinanza, quindi è ufficiale polizia giudiziaria e quindi non possiamo fare tutto. Io credo che a Santa Maria, come a Civitavecchia, non ci sono casi sospetti, non ci sono casi di contaminati così e quindi possiamo stare tranquilli. Anche se a Civitavecchia, ma anche a Santa Maria, l'abbiamo messo in quarantena una famiglia di quattro persone che veniva da una zona vicina a quella rossa, gli abbiamo fatto fare il tampone perché avevano un po' di tosse, quindi avevano dei segni, che il tampone ha dato risultato negativo, gli abbiamo comunque, visto che venivano lì, gli abbiamo consigliati, gli abbiamo obbligati a mettersi in quarantena, chiamiamola volontaria, come quelli dei Mussolini che li costringeva a essere volontari, gli abbiamo detto, volontariamente vi mettete lì, stanno a casa in quarantena, gli portano in giardino la spesa, ci sono organizzati così e loro scendono dalla villetta, prendono la spesa e quindi stanno lì, tra qualche giorno finirà questa quarantena, però dobbiamo ringraziare questa famiglia che ha accettato di buon grado di evitare pericoli e questo è quello che c'è, ma per il resto non c'è niente a Santa Maria, comunque il tampone dice che loro non hanno nulla, quindi diciamo che Santa Maria è una città tranquilla, però ieri sera io comunque ho convocato il comitato di crisi, dove ho messo insieme tutta la protezione civile a Croce Rossa, la misericordia, gli sommozzatori, tutto il volontariato, erano circa 50 persone, ma task force, ma task force, in cui abbiamo previsto tutto, adesso mercoledì faremo una riunione con tutta, tutta, molta parte della popolazione al palazzetto dello sport, insieme ai ragazzi e agli alunni, in cui spieghiamo, spiegaranno quelli da la dottoressa Orsino, che cosa si tratta, qual è il pericolo, ma soprattutto non creare allarmismo, perché questa cosa ha creato, intanto lo sanno tutti, che il coronavirus è un'influenza, diciamo, virale, non mortale, non mortale, non ci si muore, muoiono soltanto eccezionalmente coloro che hanno concomitanze con altre patologie che ovviamente fanno la funzione di acceleratore, sul piano soprattutto respiratore, quindi noi spiegheremo intanto queste caratteristiche con persone coscienziate, cioè con medici, che quindi diranno com'è, quindi accorgimenti, lavarsi le mani, tutti quegli accorgimenti, più diremo cosa stiamo facendo, perché nel caso dovesse venire, non c'è oggi, ma nel caso dovesse venire uno, due o tre infestati come su nella rossa, dobbiamo mettere a disposizione uno, due o tre appartamenti per, e già abbiamo visto con la pisse ricordia, c'hanno un albergo chiuso, riaprono un albergo chiuso e quindi metteremo nel caso dovesse resistere un albergo per tenerli isolati, e poi abbiamo detto che tutti coloro che sono disponibili si mettono a disposizione per fornire attività logistica, per fornire avvetto o agliamento, abbiamo anche delle tende pneumatiche in caso dovesse succedere il peggio, nel senso che abbiamo programmato, oggi non c'è niente, stiamo tranquilli, però abbiamo programmato nel caso in cui dovesse venire, se non succede meglio, ma se dovesse succede non ci facciamo trovare impreparati, e quindi questa task force che si è riunita, si è costituita formalmente, c'è tanta tanta gente, e quindi siamo pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, ovviamente speriamo che questa evenienza non succeda, speriamo che continui così com'è, ma soprattutto noi dobbiamo infondere un messaggio di cautela, di ottimismo e di tranquillità, senza la psicosi di essere ammalati, di morire, perché qui non si muore, il contagio non è detto che dà sicuramente altri esiti che non quello di una febbre, e quindi io credo che su questo, se no l'economia nostra va a rotere, noi a Santa Severa, che non c'è niente, stamattina mi diceva un albergatore che ha avuto il 90% dei disdetti in albergo, 90% di gente che veniva dalla Germania, non ci viene più in Italia, negli alberghi c'è le gite scolastiche che venivano dalla Polonia, da tanti paesi, hanno bloccato tutto, ma non si può fare così, noi cerchiamo di dare dei messaggi, e la riunione che faremo la prossima settimana, mercoledì sarà in questa funzione, la riunione che abbiamo fatto ieri, e calò un messaggio di tranquillità, cioè Santa Marietta come Cirecchia non ha questi problemi, quindi si può venire tranquillamente al bagno a fare una gita sulle nostre spiagge perché non c'è nessun pericolo, poi in più ci siamo organizzati che se per caso dovesse successo siamo pronti a affrontare qualsiasi evenienza, questo è quello che si deve fare, però vogliamo dire agli ascoltatori, tranquilli, fate le stesse cose di sempre, non succede niente e continuate alla Coppa, mi pare pochi giorni fa è stato l'assalto del supermercato, c'era più niente, non c'era bisogno, non c'è bisogno, stiamo tranquilli e soprattutto non facciamo dare, né alla nostra economia non facciamo danno, ma soprattutto non sciupiamo voglio dire il futuro di questi ragazzi e delle nostre persone che non possono vivere come diceva qualcuno per la paura di morire, non può essere questo, dobbiamo essere tranquilli e sereni. E abbiamo veicolato tramite la nostra emittente anche questo messaggio da parte del sindaco di Santa Marinella Pietro Di Dei che ringrazio per essere stato con noi, grazie mille e buonasera. Buonasera a voi. E ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito l'appuntamento e con i prossimi programmi di Telecività Vecchia. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.